Tre giorni di matrimonio? Ma non poteva bastare mezza giornata come fanno tutti? No, lui deve sempre fare di più! Quello chi è? L'altro che paga, il padre dello sposo. E quelle cosa sono? I Bordeaux dell'89. Ma ne avevamo detto 20. Questo è un patrimonio. Si comincia. Qui Elio e la Caterina avevano tre anni. E questa chi è? Niente, è la mia ex moglie. È arrivata la regina madre. Il nuovo compagno di Margherita, pare di un certo livello. Una specie di elendelon giovane. Giovanni, finalmente! Giacomone! Come ha fatto a finire con un troglo di tacone? Sei geloso che ti sta rubando la scena? Oh, ma non ci avrai mica i dubbi dell'ultimo minuto. Perché tu non ce l'hai, i dubbi? Scusi! Agli elico del vulture o primitivo di Vanduria? È fatto così. Bello espansivo. Un matrimonio felice è come uno spiedino. Idda ci mette la carne e idda lo stecchino! Noi siamo i figli della borghesia, la quintessenza dell'ipocrisia. A noi! Quando è l'ultima volta che ci siamo divertiti? A Pogno. A Pogno ci siamo divertiti. Era il 94. Siamo gli avanzi di un ricordo, siamo il prodotto interno all'orda! E siamo liberi di fare tutto quello che ci pare, anche se è quello che ci pare in fondo. Nessuno sa cos'è! A Pogno。 Siamorier. A Pogno. A Pogno. A Pogno.